Un sopralluogo sui ponti crollati dopo l'alluvione del 10 settembre e ricostruiti sul rio Ardenza e Rio Maggiore a tempo di record, poi la tappa nella sede del Genio Civile, dove il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, che è anche commissario per il post-alluvione, ha annunciato lo stanziamento di 28 milioni di euro destinati a Livorno, con le salventi e il rosignano marittimo. La somma, inserita in una proposta di legge approvata dalla giunta regionale già trasmessa al Consiglio, prevede 20 milioni per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e altri 8 per prestare assistenza ai cittadini che hanno subito danni gravi con contributi a fondo perduto da 5.000 e 8.000 euro a famiglia. Il mio obiettivo è di stare vicini, di rispondere con aiuti concreti, di mettere il Parlamento e il Governo in condizione di utilizzare anche la legge di bilancio per fare stanziamenti che servono ai ristori per le famiglie e per le imprese. Ai 28 milioni annunciati dalla regione si aggiungono i 15 milioni e mezzo stanziati dal Governo, totale 43 milioni e mezzo a disposizione del Commissario. La ricostruzione ora prosegue a ritmi serrati sugli argini e sulle strade danneggiate dopo la riapertura al transito delle auto dei due ponti risorti dopo il crollo, con una meta precisa. Di fare in modo che si esca in tempi rapidi da questa situazione in modo tale che se certi episodi dovessero verificarsi non si può mai avere la sicurezza assoluta ma la situazione di Livorno fosse davvero, dovrà essere davvero migliore per far fronte a questo tipo di situazioni, a queste piogge e a questi temporali. Avanti tutta in stretta collaborazione con la Camera di Commercio di Livorno anche con la conta dei danni alle imprese messe in ginocchio dal disastro. I due uffici aperti per aiutare le aziende e le famiglie colpite sono già al lavoro.